Il 25 aprile è una delle feste più belle, la festa della libertà, ma noi abbiamo vinto grazie alla resistenza. Anche oggi ci viene chiesto di resistere per tornare a vivere, ad essere liberi, certo dopo ci sarà da rimboccarsi le maniche, però lo faremo insieme. Anche la cultura non vi lascia soli, anche noi da isola a isola, da Palermo, dal teatro biondo, vi siamo vicini ogni giorno gratuitamente su YouTube, vi proponiamo spettacoli, le letture dei classici, delle poesie per i ragazzi che studiano e poi dopo ancora le filastrocche, le fiabbe per i bambini. Insomma usateci, siamo qui per voi e vedrete che insieme ne usciremo presto e ci rivedremo magari sulle sedie rosse di un bel teatro. Forza e coraggio a tutti e buon 25 aprile.